ben tornati questa social night in versione indovina chi perché la mia partner in crime giuliana vendola ha intervistato due grandi attori della fiction nel nostro cinema italiano ma non mi ha voluto dire chi però io ti ho organizzato un bell'indovinello ma no quelle cose che faccio io allora io ti mostro delle emoticons e tu cercherai di fare una sorta di una sorta di indovina chi indovina indovina cosa ti fa pensare a che attore ti fa pensare questo questo trio di emoticon allora questa sono mia nipote mi rende la spagna va alla spagna è un attore attore biondo spagnolo antonio banderas va benissimo no però sarebbe stato stupendo due ragazze ragazze spagna c'è una piazza c'è una piazza ragazze di piazza di spagna bravissimo sono un ragazzo degli anni 90 e marco bonini che ha esordito negli anni 90 con il mitico ragazze di piazza di spagna e noi ce lo ricordiamo benissimo la nostra prefe io ho intervistato proprio lui altro che netflix vediamocela se mi manchi più bello brevi storie per colmare la distanza di marco bonini prima nazionale qui a bari alla fiera del levante sì sono molto contento di iniziare questo nuovo viaggio qua da bari dove torno sempre molto volentieri la puglia in generale pari come l'inizio di tutta la puglia non me ne vorranno i reccesi salentini foggiani eccetera eccetera e tarantini quindi niente sono contento bari è un luogo dove torno sempre volentieri anche soprattutto d'inverno e se l'inizio dell'inverno oggi fa un po caldo per essere diciamo un po già autunno però è una storia appunto che racconta come colmare la distanza e quindi ogni tanto bisogna trovare ritrovarsi per per colmarla un viaggio anche attraverso le figure femminili di questa storia nasce da una sua ps teatrale diretta da lei ecco quanto è importante parlare di questi temi oggi anche a fronte di le varie polemiche degli ultimi tempi sulle categorie donna uomo e per me è molto importante io lavoro sul questione di genere da da sempre sostanzialmente come autore per me questo libro è un po un terzo passo perché ho iniziato il mio primo romanzo era raccontava l'identità maschile nel passaggio tra padre e figlio ed è una storia poi ho fatto un saggio che si chiama l'arte dell'esperienza dove racconto come superare il gap il gender gap attraverso la recitazione imparare a mettersi nei panni degli altri è la soluzione è una competenza linguistica civica che tutti noi dovremmo avere ecco per questo terzo libro ho cercato di farlo cioè di mettermi nei panni delle donne e in particolare di una donna lavoratrice ho cercato di di capire se è possibile di far esplodere lo stereotipo per cui la donna deve scegliere tra la carriera e la famiglia e credo invece che si possa tenere tutte e due insieme quindi ho raccontato la storia di una donna che lo fa che lavora è fuori per lavoro e racconta ogni sera un po facendo un omaggio a gianni rodari una favola al telefono e alla figlia che sta a casa con il papà perché il papà in questa famiglia è rimasto a casa a prendersi cura della bambina ecco la 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 distanza si può colmare attraverso una vicinanza psicologica una vicinanza emotiva non è importante esserci fisica è molto importante esserci fisicamente ma quando non si può perché si lavora e bisogna anche lavorare si può colmare questa distanza con una favola e racconto favole della buonanotte perché questo non è un libro per bambini è un libro per genitori perché la favola della buonanotte è il momento di passaggio tra il conscio e l'inconscio e dove le storie sono più intime dove le storie si si cristallizzano meglio nell'inconscio nella memoria e quindi una mamma o un papà che racconta una favola da lontano è il modo migliore per stare vicino a quella a quella figlia o quel figlio questo è il marco scrittore ma noi l'abbiamo conosciuta io personalmente ricordo nel 98 il marcello tassinaro delle ragazze di piazza di spagna che ricordo a di quel momento mi chiedo come fai a ricordartelo perché sono passati avevo quattro anni appunto mi sembrava e comunque si è passata di acqua sotto i ponti io già scrivevo in realtà però non lo sapeva nessuno adesso lo sanno in tanti spero sempre di più e quindi il percorso è sempre lo stesso io credo che un artista adesso ognuno poi ha le proprie inclinazioni per me la scrittura cioè io più che uno scrittore e un attore mi sento un cantastorie il cantastorie è un un autore diciamo un attore autore che racconta delle storie che lo riguardano ma che soprattutto riguardano il pubblico a cui le racconti perché l'arte è un servizio pubblico non può non esserlo l'arte nasce come servizio pubblico il pubblico vuole sapere chi è il pubblico e lo vuole sapere dagli artisti quindi noi siamo dei servitori grazie grazie a voi ma quante sterne che stiamo regalando brava giuli ci hai portato in là nei nostri anni nelle memorie abbiamo vissuto ragazzi di piazza di spagna adesso c'è un altro indovinello sì c'è un altro indovinello ti ho portato alla fiera ora ti porto a scoprire che cos'è vediamo 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 la prossima emoticon indovina il cuore cuore dammi però un altro attore un altro attore parliamo di un attore sì cerca cercami amore strano amore no allora ti posso dire ti ho buon indizio anche tre segnali ok la lente di ingrandimento chi la usa l'ispettore ok lui ha fatto un film gadget no dimmi dimmi ha fatto una serie sì che si chiama fenoglio ah e quindi alessio boni e ha fatto un altro film che ha a che fare col cuore ah tutto l'amore che c'è e quindi è un amico nostro è un nostro amico sì chi c'è nel dietro le quinte quanto posso dire di questo attore Michele Venitucci bravissimo ho incontrato dei parti quest'estate li voglio un sacco bene non mi avete invitato ma va bene così vediamo l'intervista la voglio valutare insieme a voi siamo con Michele Venitucci per mare a sinistra la Fiera di Levante nella tua bella Puglia come stai prima di tutto? bene se sono a casa mia sto benissimo nella mia bella Bari Michele in questa giornata si è parlato anche di cultura e proprio di quanto gli artisti pugliesi siano legati alla loro terra beh è un momento un momento speciale per la nostra terra per la nostra regione che si parlava prima con Marcello in trona che insomma quando iniziamo noi più di vent'anni fa con quel film di Rubini sono successe tante cose tanto è cambiato dal punto di vista turistico dal punto di vista artistico ci è stata una grande crescita tantissimo vedere Bari io in questo periodo sono qui per lavoro e vederla piena di turisti e di bel turismo mi fa impressione e mi fa piacere sicuramente tante cose si possono fare ancora di più da un punto di vista culturale credo ci sono tantissimi spazi da sfruttare e io credo che le due cose vadano a braccetto per una crescita proprio anche economica visto che poi questi numeri che guarda la politica e credo che la cultura e il turismo hanno fatto crescere una regione che è diventata un esempio anche in Italia e quindi questa è la dimostrazione che questo può avvenire allora adesso dobbiamo impiegare un po' più di come dire risorse all'interno e non solo darle all'esterno per chi arriva a soffrire delle nostre bellezze quindi far crescere delle persone che hanno l'opportunità di avere formazione di formarsi qui di avere la possibilità di vedere delle belle mostre di andare a teatro di vedere il cinema all'aperto insomma di fare incontri sociali e culturali che ti diano la possibilità di fare di crederci dall'altra parte invece un consiglio a chi vuole intraprendere questo mestiere restando nella sua terra eh questo è beh oggi diciamo rispetto a prima vengono ci sono tante produzioni che girano in Puglia quindi anche io per me allora voglio ritornare indietro per me il consiglio iniziale è sempre di focalizzare sulla formazione quindi di cercare una scuola ecco questa è una cosa che si potrebbe fare qui una scuola sovvenzionata della regione più che una scuola privata quindi che dia la possibilità alla gente che non può permettersi di pagare degli studi di avere la possibilità di studiare questa è una garanzia poi oggi ci sono tante piccole produzioni qui in Puglia avere un contatto con dei casting ti permette comunque di accedere ad un mondo che prima era lontanissimo ed era soltanto localizzato a Roma ci sono anche sicuramente dei corsi da seguire però si possono anche inventare tante altre situazioni cioè fondamentalmente podcast sul cinema oggi i ragazzi hanno molte opportunità anche tecnologiche a supporto sono molto più smart hanno molte più informazioni e quindi si può fare ultima domanda ci puoi dare qualche spoiler sui tuoi nuovi progetti? sì io sto girando in questo momento proprio qui a Bari una serie tv per la Rai che sono i casi dell'avvocato Guerrieri con Alessandro Gasman sempre tratto da dei romanzi di caro figlio e quindi girerò a Bari ancora per lungo e sono felicissimo per questo e noi ti seguiremo come facciamo sempre grazie grazie a Michele Venitucci a voi brava Giulie che porta a casa un'altra intervista live dalla Fiera del Levante sì era l'evento mare a sinistra come ho detto anche nell'intervista adesso nonostante nel Tg di Telebari ci hanno licenziati noi vogliamo portare avanti la nostra rubrica degli eventi che merita tantissimo anche perché domani non saremo in onda e lasceremo spazio ai nostri colleghi dello sport forza Uba Uba andiamo avanti andiamo avanti allora ci proviamo a farlo in un minuto ma gli eventi di questo weekend sono tantissimi quindi ci dovete perdonare iniziamo con venerdì 18 ottobre cosa accade Maurizio Carucci leader della band Exotago presenta il libro d'esordio non esiste un posto al mondo a Bari alle ore 20 e 45 alle officine culturali Ergo sempre venerdì 18 ottobre il libro possibile 2024 propone a Trigiano l'Alezio Magistrale di Vladimir Luxuria e poi dal 18 fino al 20 ci sarà ad Acquaviva delle Fonti la Sagra del Calzone andiamo a ballare tutti al Demo Day di Modugno sempre venerdì 18 si terrà il party quasi una festa presto a pochista vita loca andiamo avanti sabato 19 ottobre si apre finalmente la stagione al Teatro Chismet con il tema attraversamenti e uno spettacolo stupendo quando le stelle caddero nel fiume vi porto a Molfetta che si prepara ad ospitare un altro concerto che si aggiunge alla rassegna dei grandissimi concerti ci sarà il 19 appunto Petit all'Eremo Club inizio ore 21 e poi dal 19 fino a domenica ci sarà Bacco per Bacco a Turi che torna alla sua undicesima edizione con tanto vino e tanta pugliesità sia sabato 19 che domenica 20 ottobre sempre a Poggiorsini c'è il Cardoncello On The Road poi il 19 ottobre al Demodea ancora Vida Loca famoso format itinerante si balla da morire dal reggaeton all'hip hop bellissimo ne abbiamo già parlato ma a Barletta al Teatro Curci è in scena il TEDx la foresta che muove tantissimi ospiti e poi al Planetario di Bari tantissimi appuntamenti per grandi ma soprattutto per i piccini ci sarà lo spettacolo Asteroidi Missione verso l'Ignoto e poi domenica il Figlio della Luna domenica 20 ore 10 quindi di mattina una visita al Teatro Petruzzelli Bari e i suoi teatri con apertura speciale del Teatro Petruzzelli e mi raccomando è ultimo giorno domenica per godere dei magnifici spettacoli del Circhio Lidia Togni ce l'abbiamo quasi fatta sì quasi a gratis gli eventi ve li diamo noi su Telebari 17 abbiamo sbagliato qualche cosa ma ci prendete così e ci rivediamo la settimana prossima live dal Teatro Forma e poi una nuova settimana di programmazione con ospiti illustri io al teatro avrò i Moonquakes da X Factor ma che bravo canale 17 mi raccomando canale 17 grazie a tutti Grazie a tutti.